Rispetto, inchinatevi davanti a sto maestà, la regina dei sette regni, madre dei draghi, figlia del fuoco, nipote di Romoletto. Chi è Romoletto? È Romoletto? Conoscete Romoletto? No, chi è Romoletto? C'è una frutteria a Campo dei Fiori, c'è un banchettino proprio angolo di via Bapuino, dai vende le pesche quelle senza peluria, carissime, costa niente. Io ci vado spesso, non mi ricordo, niente, peccato che non lo conosciate, casamai vedo il biglietto di visita. Grazie, grazie, grazie mille. Eh, prego, prego. Come sta Romoletto? Silenzio paparazzo. Ah, grazie, l'ha detto, l'ha detto. Non sapevo più che dici, Romoletto. Non ho sentito la peluria, non profanare il tuo ruolo. Non devi dire la peluria. E dimmi chi sono questi due stampelloni vestiti così strani. Beh, vestiti tra di noi, piuttosto, non so, perché siete tornati di nuovo questa settimana a interrompere il programma che ci stava benissimo senza, eh? Grazie. 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 Grazie.